E state zitte, cornacchie! Ehi, ho cambiato idea, andiamocene via! Come sarebbe a dire? Ho cambiato idea, ok? Shhh! Se ne facessi salire i miei, mi ammazzerebbero! Ehi, Muzzi, perché non la chiami tu? Andiamocene su! Oh, Sandy! Dove ti c'è? Andiamo via! Sapete che vi dico, ragazze? Voi fate un po' quello che vi pare! Io mi voglio levare gli sfizi! Adesso che ho l'età per godermeli! Oddio, ma che fa? Si vuole calare dalla grondaia! Ehi, rizzo! Ma che fa? Scende senza rete! Come siete solerti ad aiutare una signora! Signora, io non vedo signore! Sta zitto, non ruppare le scantole, zitto! Che succede, Kenki? Indovina un po'. Hai qualcosa da offrire a una ragazza? Sì, proprio così! E tu che dici, zucco? Sei molto carina, rizzo! Ma che fantasia! Ma la roba di seconda mano non è il mio genere! Ti vai a fare un solitario? Meglio che perdere tempo con questi cretini! Ehi, Danny, dove vai? Danny, aspetta! Il suo cocchio, signora! Ehi, ragazzi! Credete che sia venuta per fare una scampagnata? Oh, no! Avanti, siamo al capolinea! Che dici? Forza, scendete! Andate! Guarda, vanti a fidare degli amici! Ma che modi! Quando uno preferisce una femmina ai suoi amici, vuole dire che ha qualcosa che non va! Proprio così! E noi ci andiamo a fare una pizza! Certo! Sì! Grazie.